Quanto vissuto al fischio finale del signor Valeri sabato scorso sul prato del Ferraris, i tifosi della Sampdoria non riusciranno a cancellarlo tanto velocemente dal cassetto della loro memoria. Una festa, al contempo intensa e semplicissima, di quelle che piacciono i sampdoriani, quelli veri. Un sabato fantastico sul campo, con un pirotecnico 3-3 tra brucerchiati e bianconeri e un post partita indimenticabile, con il tributo della Sud e di un Marassi gonfio di calore e di entusiasmo come non mai. Bandiere brucerchiate, vestiglie a 12 stelle e lino dell'Eurovisione per celebrare un campionato ricco di soddisfazioni ed emozioni, come da tempo non se ne vivevano in casa Samp. Il 2007-2008 del Doria va così in archivio nella maniera più bella che si potesse immaginare. Con tanto orgoglio per quanto conseguito e altrettanto ottimismo pensando a quello che potrà essere. Serenità e ottimismo, come quella espressa dal presidente Riccardo Garrone ai nostri microfoni. Quello che è l'obiettivo è mantenere una squadra, una Sampdoria forte, che possa affrontare l'UEFA e possa affrontare il campionato nello stesso modo come ha svolto questo, soprattutto nel secondo girono. Cassano, Maggio e Montella, grandi firme per l'ultimo atto blucerchiato di questa stagione. Nel pareggio che ha chiuso il campionato dei nostri ragazzi sono infatti arrivati tre fantastici acuti dei moschettieri più attesi. Gioia immensa per un fantantonio in doppia cifra, per l'acuto numero 9 del nostro 7 e un'ovazione da brividi per il gol più sentito, quello di Vincenzino, che ha fatto decollare il suo aeroplanino proprio lì, ai piedi della Sud. Un canovaccio piacevole, quello offerto da Samp e Juve, con la vecchia signora scappare subito via con Del Piero e Treseguet ed un Doria determinatissimo, capace di chiudere la prima frazione ristabilendo la parità. Quindi ancora Del Piero a piazzare su penalty il centro numero 21 della sua stagione e Montella a fissare sul 3-3 a 10 minuti dalla fine, capitalizzando lo show palla al piede del talentino. Una splendida partita, come sottolineato anche da un Daniele Gastaldello, sempre più certezza della Samp del domani. È stata una bella partita, penso che i tifosi si siano divertiti come tutto l'anno. Purtroppo, l'ho già detto, abbiamo avuto il primo quarto d'ora di sbandamento, che abbiamo preso qui due gol, però poi si si è rifatti, è venuto fuori lo spirito nostro e non abbiamo mollato mai fino alla fine. Siamo riusciti, purtroppo dico perché si poteva fare ancora di più, portare a casa il pareggio. Siamo contentissimi perché abbiamo fatto un ottimo campionato. Io personalmente sono strafelice perché all'inizio non pensavo di fare tutte queste partite e di fare così bene. Penso che la squadra si sia espressa ad alti livelli e confronto anche a tante altre squadre più blasonate di noi. Siamo contenti, però sicuramente non dobbiamo rilassarci, dobbiamo pensare già all'anno prossimo che abbiamo una competizione importante come la Coppa UEFA e io, come tutti quanti i miei compagni della società, ci teniamo andare avanti. Missione compiuta, nella maniera più completa del termine. I ragazzi di Mister Fulvio Pea per il terzo anno consecutivo approdono infatti alla Final Eight del campionato nazionale Primavera Team. Un traguardo importantissimo per la Samp, che nelle ultime tre stagioni ha raggiunto risultati ma è nemmeno lontanamente sfiorati dalle nostre formazioni giovanili in oltre 60 anni di storia. A Chieti 2008 la Samp Baby arriva al termine di un ottavo di finale davvero entusiasmante. La sconfitta di Reggio Calabria per due reti a uno è stata infatti rovesciata da Poli e compagni con un roboante 6-0 sabato scorso sul green della sciorba. Due reti di scappini e una testa per Eramo, Cuciniello, Poli e Gabi Ferrari, per raggiungere un altro gioiello ad un'annata di per sé già straordinaria con la conquista della Coppa Italia ed il secondo posto in regular season. Il campionato si chiude, ma non le fatiche per la banda Mazzarri, che godrà sì di tre giorni di riposo, ma si ritroverà giovedì al centro gloriano Mugnaini per le ultime sedute d'allenamento dell'anno. Un paio di sgambate per sciogliere i muscoli e festeggiare in famiglia una stagione davvero da ricordare. Una stagione che riporta la Samp nell'Olimpo del calcio continentale, su quel palcoscenico che tanto piace al Doria e ai suoi tifosi.